Ciao ragazzi, bentorni e benvenuti qui su Mike Fantastici Oggi ragazzi siamo qui per fare un nuovissimo unboxing Merry Christmas, I hope your tree burns down, you're on my shit list, you know I hate you now Merry Christmas, from all our wasted years, Merry Christmas, I hope you spend it on L'altra volta, oddio, l'altra volta mio padre stava sistemando un po' i scatoloni che gli sono liati dall'Italia Perché stiamo in Irlanda, 4 anni, e ancora degli scatoloni che non aveva preso E gli sono arrivati e ho trovato questo senza istruzioni però Flying Dice è vecchissimo, tipo 40 anni, una cosa del genere Infatti è tutto rotto la scatola, ma dentro non è delle peggiori condizioni Sono ritrovi a caso, come nel titolo del video Non so come funziona, non ho la più palita idea Ci sono questi 4 dadi, cioè ci sta 1, 2, 3 e 4 Ragazzi, se qualcuno di voi sa come funzionano, scrivetemi nei commenti Chi lo sa, e datemi il vostro nome di Instagram, così vi contatto Perché è importantissimo sapere come funziona E nella foto penso sia questo Perché in pratica è quello lo scopo di Flying Dice Quindi degli anelli che volano Ehm, ritrovi a caso Sono video, questi qua i Vlogmas Che ti vengono al momento, non sono preparati Infatti improvvisiamo sempre nei Vlogmas E quindi ragazzi, eccolo Invisible Dice è un prodotto magia Link in descrizione al suo sito E quindi ragazzi, alla prossima Ciao Ciao